Che viaggio? Mi chiamo già Maria, ho 21 anni Io mi fumo la Maria da 21 anni Ho arrivato a Milano per fare il modello Vado a dare via l'ano per uno spinello Ho pensato di aprire un blog di moda E ho pensato di aprire un coffee shop Questa passione per la moda Fin da piccola la passione per la coltivazione della Maria Per rendermi unico, non seguo la massa Mi faccio di quei cannoni E tutto passa, ma passala però! Ogni volta che voglio mangiare chiamo e il ristorante mi portano da mangiare in camera Ogni volta mi viene una fame, mi mangio un chilo di pasta, non di paste Le due di notte vengono amici in camera, festeggiamo con un bel champagnino E si festeggia con il magrebino! Oi Abdul, ascolta ti aspetto qui tre dieci minuti, ma buona però buona Nei primi tempi andavo a tutte le feste, invece adesso è un po' il contrario Se c'è una festa, deve essere una festa top Una volta mi distruggevo alle feste, tutte le feste Parlavo con tutti, addirittura un giorno ho parlato con un palo della luce Però era simpatico, però adesso vado solo ai rave Tra vent'anni lo vedo imprenditore, personaggio comunque conosciuto perché da quanto vedo la mia popularity sta crescendo sempre di più ultimamente Tra vent'anni mi vedo... mi vedo con una carriera di pusher all'avanguardia Ermo è nevica, è neve a bassa quota Dai Abdul fai, fammi un regalino Oh Abdul, tutti da me, che facciamo la pasta esciuta? Si taglia telli in bianco tutta la notte UUUUUU SONO TORONNATA A MILANO Ho dato via l'ano ma per averla in compra E ho deciso di trattenermi qua per sviluppare un paio di progetti E resto qua per vendere etti Non mi mantengo io da solo personalmente Diciamo che vengo mantenuto Vengo mantenuta dal papi Perché sono una tecnoranger Faccio veramente poco io adesso Ma voglio che sia così perché mi sono appena laureato Non faccio un cazzo da mattina a sera perché mi hanno appena scarcerato E trovare qualcosa che mi piaccia fondamentalmente perché non è così facile Solo Abdul è la roba che mi piace Garface mi fa una pippa Ma che cazzo mi ha portato Abdul? Cos'è? Bicarbonato? Che amarezza Ma perché non sta ferma sta mandibola? Oh così va bene Sono Anna Ma basta la canna Ho 19 anni Faccio solo danni Sono Chris Elisabel Ho 25 anni E abito a Venezia Oh streghetta Se ne ha suga il canale Chi se che va solo l'acqua Se ne se ne ha suga il canale Abito a Verona Uno solo roba buona A Milano Vado a dare via lano E a Venezia Tutti a Venezia Ad Abdul Da per tutto Perché ho case in giro per il mondo Ho poi scegliere in giro per il mondo Alzo e mi faccio coccolare facendomi portare la colazione a letto Abdul ci prova pure e mi porta la cannetta a letto Passione per la moda Ho la passione per la droga Infatti ho una linea di abbigliamento E infatti ho una linea di spazio internazionale Organizzo eventi In location esclusive Organizzo rave party nei boschi O in fabbriche desolate O in posti troppo da trip Ho una vita di un certo livello Nella vita faccio il macello Posso decidere quando andare in vacanza Viva la fattanza! Posso comandare altre persone Abdul portami un ventino E ho la strada più spianata Per realizzare i miei sogni Il pianale è sempre pulito, spianato Perché non si sa mai che nevichi Quentare locali esclusivi Frequento solo rave party esclusivi Nelle fabbriche abbandonate Nel mio frigo c'è solo gelato e champagne E nel mio frigo c'è la speed Come mi gira guido una Ferrari O una Porsche E quando mi gira guido una panda Un unicorno, un triceratopo Un drago Oppure ho il mio attista privato Ho uno spaccino privato Abdul Non ho la patente Non ho più un neurone Un mio autista Facciamoci una pista! Se ho qualche serata importante Di solito indosso abiti di Vionnet o Marchesa Nei festoni che spaccano Io mi vesto con la t-shirt da basket I pantaloni da basket Le globe bustite a tipo 5 taglie in più Perché fa più Tecnoranger Mantenuta dal papi Nella vita ho sempre frequentato persone Di un certo livello Ho sempre frequentato persone che fanno il macello E ogni tanto mi faccio portare un bicchiere di champagne Ogni tanto mi faccio portare un bicchiere d'acqua E pensavi fosse acqua eh! Perché ho la mascherina per dormire con scritto Wake me up with champagne Wake me up non serve! Io faccio after! 68 Ocupef Kai bandito Spiral type Da stack noray